No, aspetta, vediamo prima se hai registrato. Allora, proviamo a registrare in questa maniera se la registrazione viene. Ma ho l'impressione che sia qualcosa che non funziona. E se tu avessi registrato da questa parte, adesso la cancelli tutta? Vabbè, insomma, è un'intervista che ho fatto molto tempo fa, non mi serve più. Forse l'hai già registrata anche prima. Vediamo un po'. Vediamo un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.